Era palese fin dall'inizio e questo sarebbe stato un campionato diverso e quindi dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Penso che sia stimolante essere lì a giocarsi il campionato e probabilmente essere lì a giocarsi il campionato fino alla fine. Quindi potrebbe essere motivo di grandi motivazioni. No a San Siro abbiamo fatto bene per 70 metri di campo, siamo un po' mancati nella parte finale del campo perché abbiamo abbandonato il nostro attaccante un po' a loro stessi. Però anche rivedendo la partita ho visto che abbiamo avuto 5-6 uscite da dietro di grande livello. Quindi rispetto alla partita precedente abbiamo fatto sicuramente dei notevoli passi in avanti. Poi te l'ho detto c'è rimasto questo problema dell'abbandono dei nostri attaccanti un po' a loro stessi. Quindi abbiamo accompagnato poco pur uscendo bene dalla loro pressione iniziale. Poi il momento negativo finisce con la partita di Verona. Abbiamo perso una partita facendo una brutta prestazione ma quello purtroppo non dovrebbe mai succedere. Ma purtroppo succede, succede un po' a tutti. E chiaramente noi essendo la Juventus quando ci succede è tutto molto amplificato. Ma questi giocatori dovrebbero essere nelle ondizioni di saperlo e quindi dovrebbero essere nelle ondizioni di reggere bene questo tipo di pressione. Il girone di ritorno è sempre molto più complicato del girone d'andata. In questa è una fase in cui tutte le squadre sono sul pezzo. Poi magari nelle ultime 4-5 partite ci sono situazioni di classifica diverse e quindi qualche squadra può mollare. Anche se negli ultimi anni vedo che questo succede sempre meno rispetto a quello che succedeva nel campionato italiano precedentemente.